Sindaco, allora quali i punti di intesa con Gentiloni? Innanzitutto è stato un incontro assai utile e proficuo, durato 30 minuti, in cui si è parlato di tanti argomenti, dell'importanza strategica dei rapporti tra la città di Napoli e il Governo nazionale, di come da quando si è insediato il Presidente Gentiloni la cooperazione istituzionale con il Governo è nettamente migliorata, abbiamo sottolineato il rispetto del cronoprogramma sul patto per Napoli, bando delle periferie, pon città metropolitana, abbiamo convenuto che entro luglio chiudiamo l'accordo su Bagnoli, credo che a questo punto l'accordo ai massimi livelli tra Presidente del Consiglio, Presidente della Regione e Sindaco di Napoli può portare nei tempi che abbiamo detto a questo accordo, siamo molto soddisfatti, così come il cronoprogramma delle vele, poi con il Presidente del Consiglio e col Ministro del Rio abbiamo convenuto di mettere a punto gli ultimi adempimenti per il rush finale della chiusura finalmente dei cantieri della città di Napoli, con rispetto del cronoprogramma, altro risultato storico, poi ho parlato della situazione molto grave in cui versano gli enti locali e a causa delle politiche finanziarie molto dure e in particolare degli enti in predissesto come il Comune di Napoli, poi abbiamo affrontato con l'impegno di superare entro giugno la questione molto delicata del CR8, commissariamento post terremoto 81 che ci ha tenuto per quattro mesi bloccata la Cassa e che è un debito quasi esclusivo del Governo, poi abbiamo parlato di tante altre cose e è convenuto che se questo è il livello di cooperazione istituzionale, se questi sono i risultati che a breve si raggiungeranno non potremmo che prendere atto di un consolidamento, di un asse istituzionale significativo tra la città di Napoli e il Governo nazionale. Sindaco, su Bagnoli quali i punti di questo accordo? No, di questo ne parleremo nei prossimi giorni, è talmente importante il risultato che quando sarà raggiunto l'accordo noi ne dovremmo discutere chiaramente con la città come siamo abituati a fare, assemblee, municipalità, giunta, consiglio comunale, tutto questo avverrà in tempi molto rapidi anche perché le notizie romane, l'area che si respirava a Roma era un'area di voto tra il 24 settembre e il 7 ottobre, quindi se questa è l'area bisogna far presto, prima che arrivi Ferragosto. L'accordo potrebbe andare ovviamente nella linea di seguire quella che è stata la sentenza del Consiglio di Stato e quindi bonifica il governo? L'accordo è tra il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e il Sindaco di Napoli, nel momento in cui si raggiunge l'accordo politico istituzionale questo sarà suggellato nelle forme che un accordo di questa portata merita, quindi non è un problema di forme, adesso è un problema di trovare in questi giorni l'accordo finale che non è una cosa scontata, ma siccome registro la volontà politica istituzionale di raggiungere questo accordo io mi sento di essere ottimista anche perché ho trovato molto proficuo l'incontro al Presidente del Consiglio, un incontro istituzionale importante, quindi sono soddisfatto perché abbiamo ancora una volta dimostrato che questa città ha concretezza, efficacia, che sotto gli occhi di tutti che si sta riscattando con la cultura e la partecipazione popolare vogliamo cooperare con tutte le altre istituzioni democratiche del nostro paese. Con il Ministro del Rio avete parlato anche di trasporto su gomma? Con il Rio abbiamo parlato di trasporto su gomma, abbiamo parlato di Porto, sono stato a Roma mezza giornata, abbiamo parlato di tutto, anche altri incontri, mi fermo qua per adesso, Porto sta andando molto bene, abbiamo approvato l'altro giorno il progetto sul molo Beverello, il cronoprogramma col Presidente Spirito va molto bene, anche qui c'è una cooperazione istituzionale importante, quello che avevamo sempre detto si sta verificando, quando le istituzioni cooperano ai massimi livelli ci sono idee, c'è concretezza, efficacia e trasparenza e i risultati si raggiungono.